Settimana terribile per gli incidenti stradali. Dopo la morte del 42enne Cagliese Matteo Fagiani, deceduto in uno schianti in autostrada al volante della sua Volkswagen Polo, fra i caselli di Pesaro e Fano, nella notte fra il 28 e il 29 marzo, si aggiunge altro sangue sulle strade. Questa volta alla periferia della città di Pesaro, dove ieri attorno alle 21 ha perso la vita il geometra 39enne Alberto Gregori, papà di una bambina. Ha perso la vita qui in via Gagarin, dove ci troviamo in questo istante, nel mattino seguente a questo sinistro fatale. Gregori era originario di Pesaro, ma residente a Cattolica, città romagnola, verso la quale stava rientrando in sella la sua Harley Davidson, percorrendo via Gagarin in direzione Torraccia. La moto di Gregori si è schiantata contro l'albero che vedete qui al mio fianco, in prossimità di questa leggera curva vicino alla concessionaria Diba. Albero che porta tuttora i segni dello schianto, ha perso della corteccia, ci sono tracce di sangue, così come ci sono tracce di sangue sull'asfalto e anche vicino all'albero si vedono ancora un manubrio, una manopola della moto Harley Davidson e la stessa visiera del casco rimasta qui a bordo della carreggiata. Una curva davvero maledetta perché proprio questa mattina, attorno alle 11.15, proprio mentre vi stavamo documentando il luogo di questo incidente mortale, si è consumato un altro incidente, molto meno grave, sulla stessa curva ma dal lato opposto della carreggiata. Come vedete alle mie spalle è ancora in corso la ricostruzione della dinamica del sinistro che ha visto un furgone centrare in pieno una macchina detta ai lavori di Aspes che era proprio in ricognizione su questa strada per monitorare anche l'albero che è stato centrato la scorsa notte dal malcapitato motociclista, così come la stabilità di varie altre piante presenti su questo tratto in prossimità del fiume Foglia. Un incidente questo senza conseguenze, frutto di una distrazione del conducente alla guida del furgone che ha centrato in pieno la parte posteriore della Fiat Panda di Aspes. E come detto una settimana davvero maledetta per gli incidenti stradali perché si aggiungono a questi anche diversi investimenti di pedoni. L'ultimo proprio ieri in prossimità di Largo Tre Martiri quando una donna di 65 anni è scesa dalla propria bicicletta per attraversare la strada sulle strisce pedonali del ponte Brigata Ebraica ma è stata travolta da un'auto che non ha fatto in tempo a frenare. È intervenuta l'eleambulanza che ha predisposto il trasporto all'ospedale Torrette in codice rosso.